In questa puntata, implementare i servizi psicologici. Festa dell'Europa, stanziati i fondi per iniziative. Approvata all'unanimità la risoluzione che impegna la Giunta a implementare l'offerta dei servizi psicologici all'interno del Servizio Sanitario Regionale, anche attraverso specifici progetti sperimentali. Siamo partiti da un'audizione del garante dell'infanzia e della dottoressa Gulino, che è il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, per farci dare e farci raccontare da loro con un po' di dati quella che è la situazione della nostra regione. In particolar modo per i ragazzi, per i minori, evidenziando come oltre il 70% nel periodo del lockdown ha sviluppato disturbi o disagi legati all'epidemia Covid, come oltre il 22% ha manifestato difficoltà legate al cibo. Insomma, tante forme di disagio, ovviamente in particolar modo per i minori, ma che poi riguardano tutta la popolazione. E allora, siccome il compito del sistema sanitario è quello di prendere in carico a 360 gradi quello che è la salute dei cittadini, quindi il benessere dei cittadini, e sappiamo come la presa in carico psicologica riduca anche poi l'accesso e il consumo di prestazioni sanitarie e soprattutto il consumo anche di farmaci, noi diciamo che ormai, soprattutto in questa fase pandemica e dopo la fase pandemica, per superare i danni derivanti, è necessario implementare i punti dove il cittadino può trovare una presa in carico del proprio stato di disagio psicologico. E chiediamo che quindi questo sia, c'è una proposta dell'Ordine dei Psicologi sulle case della salute, quindi sui servizi territoriali di psicologia, chiediamo che questo possa avvenire intanto come una forma di sperimentazione diffusa che poi possa essere estesa a tutta la Regione. Direi che è stata una risoluzione portata dalla terza Commissione Sanità, è stata recepita in Consiglio regionale e devo dire che abbiamo cercato di fare un atto che potesse tener conto anche delle esigenze dei medici, perché la richiesta di uno psicologo di base e psicologo di cure primarie andrebbe a confliggere eventualmente con quella che è l'attività del medico. Per cui noi abbiamo specificato che, pur essendo necessaria la figura dello psicologo in una maniera più importante, debbono mettersi d'accordo i due ordini per poter non essere in conflittualità. Una mozione condivisa da tutto il Consiglio, perché purtroppo, e dico purtroppo, arriva in un momento drammatico, perché comunque arriva dopo un anno esatto, dall'inizio del primo lockdown, e come abbiamo detto e ripetuto tante volte, un po' tutti in questo anno, i minori, i più piccoli, i bambini, sono stati sicuramente tra le fasce più colpite da questa situazione. Essere privati della socialità all'improvviso da un giorno all'altro è stato senza dubbio un trauma che ha portato a una maggiore richiesta di sostegno anche psicologico e quindi ben venga che la Regione vada incontro a questa necessità oggettiva, della quale avremmo fatto ben volentieri a meno, ma che è un dato di fatto che ci sta lasciando in eredità a questa pandemia. Sì, sono molto soddisfatto del fatto che il Consiglio regionale abbia accolto la nostra proposta, ringrazio il Presidente Sostegni. L'idea che si desse un servizio aggiuntivo ai ragazzi, ai bambini, ai preadolescenti, agli adolescenti, da parte del servizio sanitario a livello locale è importante. Le aziende sanitarie dovranno implementare la loro offerta di servizi, lo dovranno fare la medicina generale, lo dovranno fare le casse della salute, cioè il sistema sanitario a livello territoriale, in termini di prevenzione, deve dare un aiuto forte ai ragazzi. Molti adolescenti, rinchiusi nelle loro abitazioni, costretti alla didattica a distanza, stanno vivendo sulla propria persona un dramma, quello dell'isolamento, che determina paure, che determina insicurezze, che allo stesso tempo può determinare delle situazioni che se non recuperate o accompagnate potrebbero essere nei prossimi mesi oggettivamente un limite alla loro giovinezza, alla loro socialità, alla loro relazione con gli altri. Quindi questo percorso va accompagnato, è senso di responsabilità assumersi questo elemento, non si tratta di una questione di carattere sanitario, si tratta di una questione di carattere sociale, che in questo momento deve vedere il Consiglio regionale vicino alle famiglie, vicino ai ragazzi. Abbiamo votato convintamente a questa nuova proposta di risoluzione che prevede un sostegno psicologico per le persone che in questo momento sono in difficoltà. E dire persone in difficoltà significa non escludere nessuno, perché tutti quanti noi siamo in estrema difficoltà, difficoltà economica, difficoltà di relazione, difficoltà di stare con gli altri. Pensate a quanto è grave il fatto che nessuno di noi si possa toccare, che nessuno di noi si possa abbracciare, che i nostri figli non possano dare un bacio ai propri nonni, perché in quel bacio ci potrebbe essere la pericolosità di contagiare il nonno e quindi addirittura di perderlo. E purtroppo in alcune famiglie è addirittura successo. Viviamo un momento dove l'aiuto, il supporto psicologico di una persona che è formata per contrastare anche elementi di grande criticità che in ognuno di noi si stanno creando è estremamente importante. Quello che deve fare la Regione Toscana è finanziare alcuni supporti psicologici e sfatare anche il mito che se vai dallo psicologo sei uno malato, se vai dallo psicologo sei uno che non si potrà mai più riprendere. Non è assolutamente vero. Il 9 maggio la Toscana festeggerà il Giorno dell'Europa con varie iniziative. Per questo è stata votata una variazione di bilancio che stanzia 115 mila euro da soddividere in 15 mila nel 2021, 50 mila nel 2022 e 50 mila nel 2023. Il Consiglio regionale ha completato la dotazione di questa proposta di legge che è nata in Commissione Europa su uno spunto del Consigliere Stella sul quale abbiamo lavorato insieme a commissari di maggioranza e opposizione in collaborazione con il Presidente del Consiglio Mazzeo e gli uffici. Con il voto di quest'ultima seduta arriva praticamente il completamento anche di questa proposta di legge che ha un obiettivo far sì che anche in Toscana si possa celebrare, ricordare e soprattutto vivere la festa dell'Europa che cade il 9 di maggio con iniziative, eventi e soprattutto occasioni di riflessione che saranno portate avanti d'intesa con gli enti del territorio e ci auspichiamo anche con il mondo della scuola. Intanto permettetemi di sottolineare l'aspetto che spesso e volentieri la nostra comunità vede distante l'Europa. Non abbiamo tante conoscenze di quelli che sono i diritti e i doveri che noi abbiamo nei confronti dell'Europa, ma neanche quelli che l'Europa ha nei nostri confronti. Per cui credo che entrare in merito in una giornata di festa come conoscenza, come vicinanza, come far sapere a tutti i nostri concittadini quello che dovrà essere reciproco rispetto nel mondo del lavoro, degli investimenti, di quello che sarà poi il Recovery Fund, la Next Generation EU che verranno poi distribuite. Io credo che sia giusto che siano stati messi dei fondi a disposizione proprio per questo. Ma non mi fermerei soltanto lì perché all'interno della Commissione ci sono state delle proposte condivisibili come ad esempio portare nelle biblioteche la conoscenza dell'Europa, portare nelle scuole la conoscenza dell'Europa perché credo che sia fondamentale. Il Consiglio ha approvato a maggioranza una mozione del gruppo PD che impegna la giunta regionale ad attivarsi nei confronti del governo coinvolgendo anche la conferenza delle regioni affinché vengano poste in essere ulteriori misure per la riduzione degli affitti degli esercizi commerciali tramite politiche di detassazione nei confronti dei proprietari degli immobili, a partire dall'Imu, soprattutto nelle aree a maggior criticità. Unanimità per la mozione della Lega che invita la giunta a porre in atto ogni intervento utile e sollecitazione nei confronti del governo affinché proroghi la sospensione delle attività di riscossione delle cartelle esattoriali e di notifica delle nuove cartelle di pagamento almeno fino al 30 settembre prossimo. Attivarsi in conferenza Stato-Regioni perché il governo proceda con un intervento legislativo finalizzato alla sospensione fino al 30 aprile 2021 dei titoli di credito e degli altri atti di notifica con efficacia esecutiva con termini di scadenza ricadenti tra il settembre 2020 e il gennaio 2021. È quanto chiede la mozione presentata dal portavoce dell'opposizione Marco Landi approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Su proposta di Gabriele Veneri di Fratelli d'Italia è stato accolto un emendamento che impegna la giunta anche ad attivarsi presso il governo perché vengano attuate tutte le manovre possibili in maniera tempestiva per garantire sia i creditori che gli istituti di credito al fine di sostenere l'accesso al credito garantito dallo Stato e permettere a tutte le imprese commerciali ed economiche di disporre della liquidità necessaria per proseguire la propria attività. Il disagio nelle carceri in Toscana è aumentato a causa della pandemia. A dirlo è il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale regionale Giuseppe Fanfani che è intervenuto in Commissione Sanità. La Commissione ha inoltre esaminato il dossier Caritas secondo il quale 121 mila persone in Toscana vivono sotto la soglia di povertà. Le commissioni istruzione formazione e sanità hanno effettuato una serie di audizioni per mettere a punto una strategia di interventi contro il cyberbullismo e favorire una maggiore formazione sul tema. Michele Pescini sindaco di Gaiole Inchianti è stato ascoltato in commissione affari istituzionali in merito a una proposta di legge che permetterebbe di aggiungere l'aggettivo storico alla denominazione del comune. La proposta sta seguendo l'iter in commissione. Presentata in Palazzo del Pegaso la fondazione Alfredo Catarsini 1899 intitolata al maestro versiliese in qualità di pittore, scrittore, critico e animatore di proposte culturali. Abbiamo voluto intraprendere questa avventura. È sicuramente un momento molto importante, entusiasmante perché Alfredo Catarsini è stato un pittore che ha attraversato praticamente tutto il novecento, è morto nel 93 a 94 anni. Ha sperimentato tutti gli ismi del novecento, ha avuto fortemente un interesse per la ricerca nel mondo dell'arte. È stato docente anche all'Istituto d'Arte di Pietrasanta, quindi ha avuto molto a che fare con i giovani e con tantissimi personaggi del mondo culturale e artistico che in quel momento Via Reggio ospitava e tutta la Versilia naturalmente ospitava. La fondazione ha come scopo principale quello di valorizzare l'opera del maestro, ma attraverso anche il suo archivio storico e quindi tutto quello che il mondo che lui ha vissuto è possibile creare sinergie, trovare nuovi orizzonti, nuovi stimoli per poter sia approfondire la sua arte ma anche approfondire quello che è successo in tutto questo periodo di una lunga vita molto laboriosa. È un momento importante in un tempo in cui sono chiusi teatri, sono chiusi musei, non si riescono a fare mostre. Sapere che c'è ancora chi investe sulla cultura ci dà forza e anche un po' di speranza. Il presidente del Consiglio regionale ha consegnato una targa al velista e navigatore oceanico toscano Giancarlo Pedote che il 28 gennaio scorso ha tagliato il traguardo della nona edizione del Vendée Globe diventando uno dei pochi skipper ad aver completato un giro del mondo in solitaria senza scalo e senza assistenza. Qui noi vogliamo premiare un atleta, un navigatore, un campione che ha portato in alto i colori dell'Italia e io dico anche della nostra Toscana. Un risultato incredibile, non era mai successo a nessun italiano di riuscire a piazzarsi tra i primi dieci. Un risultato che ci rende orgogliosi. Come Consiglio regionale noi in questi mesi da quando sono diventato presidente vogliamo raccontare le storie migliori di nostri concittadini. Sono delle circostanze chiaramente estreme, proprie di ogni grande impresa e quindi da un lato un grande senso di concentrazione, di determinazione nel portare avanti i propri obiettivi e a volte chiaramente in quanto esseri umani proviamo anche paura verso le situazioni chiaramente impreviste e complesse che devono essere risolte. Mi piace molto avere delle opportunità per oltrepassare i miei limiti, per trovare sempre dei nuovi obiettivi da raggiungere, per superare me stesso. Ho trovato nello sport della vela queste grandi opportunità.